Scrivere un personaggio è creare tutto che determina la singola parte, come una sinedoche ribaltata. Un personaggio ben strutturato contribuisce all'esaltazione del nostro impianto narrativo, tanto quanto un personaggio mal costruito può distruggere la nostra storia. Durante il corso procederemo alla stesura di dieci cartelle di un incipit o di un primo capitolo di un romanzo nel quale svilupperemo il nostro protagonista. Faremo l'uso del diavolo, del conflitto, del colpo di scena, indagheremo le zone grigie del nostro protagonista, le sue contraddizioni e la sua fisicità. Lo scopo del corso è fondire un metodo di costruzione di personaggi principali e secondari tridimensionali. Io sono Tadea Petucci ed aspetto al corso online della Scuola Olden di personaggi in cerca di storia. La Scuola Olden di personaggi in cerca di storia.